Grazie 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 Ma non è abbastanza grosso qui C'è questo Ma ti hai chiuso come? Ma non ti ha chiuso al stretto meglio No, non ti ha chiuso No, non ti ha chiuso Brava, brava 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 Occhio alla testa Occhio alla testa No Occhio alla testa E' una pallizza 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 Allarga Doppio sacchetto Doppio sacchetto Prova con doppio sacchetto Attenzione La stessa roba Tira di più Tira di più Di più Di più Perfetto Com'è? Ma vai Com'era? Mi Ma Hai a una, a due, a tre, io te rolio che la sai a uno, a tre, a tre, io sui in contattamento ecc a tre ci passa nel si cittura della pionda non passerà si fa including digital o si fa il lancio a mano Ci passano la fionda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qua devono venire, qua, sotto qua. Qua è molto meglio, molto più si più. Non lasciamo in mano iniziativa quelli del torchiero. No, qua, qua. No, non tutto. Eh, ma non va con la fionda, non va. Aspetta Paolo, non buttava tutta. Tutta. No, un po' negli aeroplanini. Facciamo un po' negli aeroplanini. E' un po' così di rosato del Graziano. E' un'altra cosa, Fabiana. E' questo qua che è Pugliese che è finito. Ti vuole pucciare le dita? No, dai, non facciamo robe. No, io volevo tagliare un po'. Scusa, mettiamo un po' che mi permettiamo a lungo mano. Si vede bene da là. Non c'è un'è la pita? Non c'è un'è una. Vieni, ciao. Eh, si vuole pucciare le dita. Non c'è un'è una pita. Che cosa vuoi? Vieni, vieni. No, no, non parlo venire. No, non venire, lui vuole pucciare le dita. Che cosa? State attenti, eh. State attenti. Non la faccio una donna. Non la faccio una donna. Così non posso. No, no, no. No, non vieni, bimbi. Perché il sacchetto è la bimba. Non c'è. C'è, vieni, vieni. Non c'è. Mettiamo qua così, dai. Qua così. Andiamo più in più. Da qua è il punto migliore. Guardaci, guarda tutti, va. Allora, chi tira? Io tiro. No. Non dire, perché sei ubriaco, ho già visto che lanci malissimo. Mi dispiace, amico. Si è giocato le due carte prima. No, andiamo lì. Non l'abbiamo bevuto. Andiamo lì che siamo. Dai, Francesco. Vai, c'è. No, no, no. Passa dalla porta. No, no, no. Deve stare un po' più in su tutto. Devi stare piccinissimo poi. No, no, no. No, no, no. Ragazzi, 45 gradi. Avanti, avanti. Vai qui giù. Vai qui giù posto. Vai qui giù posto. Vai, vai. Vai, vieni. Vai, vieni. Allora, vado io, vado io, vado io. A mano, a mano. Ragazzi, va diviso in due bacche. Andavamo giù nel mare. Finiva proprio nel mare. La bottiglia. Dai, fa un culo là. Lascia qui un pazientino con un sacchetto. I sacchetti. È stato il mazzo. Abbiamo superato il grande Le Bons. Sì, sì, rimbalzato. Ma ragazzi, vado qua a mano. Vai spinaci. Aspetta, aspetta. Al vento. Al vento. Sì, è stato qua sotto. Ma al vento. Aspetta. Una bottiglia. Le, Bob, schifo. Mettila un po' nella bottiglia. No, la bottiglia va giù. No, la bottiglia va giù. No, la bottiglia va giù. Ma lo fai usare prima. Almeno te. Ma che bucato è il sacchetto? No, la bottiglia va giù. No, la bottiglia va giù. Por si Su eve... No, la bottiglia va giù. No, la bottiglia va giù. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.